Si tratta di un'opera che abbiamo fortemente voluto come amministrazione comunale, è stato finanziato dal decreto Sblocca Italia, soltanto 13 comuni in tutta la Sicilia, noi siamo il primo comune a collaudare l'opera dello Sblocca Italia. Un ringraziamento devo fare al RUP, all'ingegnere Levento, alla ditta che ha fatto i lavori, la TST Project di Catania, nonché al direttore di lavoro e l'architetto Loporto. Si tratta di un lavoro che ci dà la possibilità di portare la nostra casa protetta da 16 utenti a ben 32 utenti, perché con questi lavori abbiamo completato l'ultimo piano e inoltre abbiamo fatto tutto all'esterno. Quindi diventerà apertusa, anche oltre ad essere un motivo di sollievo per i nostri anziani, la casa protetta diventerà anche un luogo dove aumenteranno i posti di lavoro.